Grazie dell'applauso, non ho ancora iniziato, adesso poi se non piaccio non posso mica dargli indietro. Comunque, niente, l'ha già detto bene Matteo, mi chiamo Davide Dalfium, in inglese From River, con l'Europa Unita, tedesco von Fluss, dialetto Dalfium. Vengo da Valsellustra, vicino a Budrio, viaggiate pochissimo voi, effettivamente il paese è piccolo, l'altro giorno rimacchina con un mio amico e dice guarda abito qui, se non guardi subito finisce, per cui è piccolo. No, cioè vi rendete conto, non abbiamo mai avuto tanti mezzi per comunicare come oggi è la malattia più diffusa e la solitudine, vuol dire che qualcosa abbiamo sbagliato. Le persone si isolano, non ci frequentiamo più, ognuno compra il suo cane e parla solo con quello. Vedo il mio dirimpetale, ho stato tutti i giorni sul piano e rotolo col cane a dire cosa dici? Dai dimmi qualcosa, non vuoi parlare con me? Che begli occhietti che hai, dai dammi un bacino. Ha fatto la cacca, allora sono di là gli occhi. No, è diventato un mondo non bello, non a misura d'uomo, dove conta più l'apparenza che la sostanza delle cose, è triste sta cosa. L'altro giorno ero in treno, stavo andando a fare una serata in Toscana, c'era un signore di fronte a me nel vagone, dico guarda stiamo qui, non comunichiamo, voglio comunicare. L'ho svegliato che dormiva, dico piacere Davide dal fiume, lui mi fa piacere Giorgio Armani. Dico, beh, ho una mutanda che si chiama così. La tv è uno strumento meraviglioso, ma quello che ci mettono dentro fa senso un po' delle volte. L'altra sera c'era Giletti che si lamentava, dice la tv fa schifo, la fa lui. Sarebbe come io e quel signore lì andassimo a rubare, dice ma c'è delinquenza, eh? Cioè se smettiamo migliora subito. E' diventato complicato tutto. Sono andato prima a prendere un caffè, mi è passato davanti un signore e ha detto al barista, mi dà un caffè decaffeinato? Un caffè decaffeinato? Se non vuoi il caffè prendi qualcos'altro. Un caffè decaffeinato è come prendere una minestra demenestrata. Salire su un monte smontato, sposare una donna sdonnata. Ieri sono andato al ristorante e ho litigato col cameriere. Dico cosa mette l'olio extravergine sugli spaghetti alla puttanesca? Davide Dalfiume!